incredibile ragazzi è un paese fantastico una giornalista che arriva direttamente dal grande fratello con questo tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più nonostante lei non ricopra un ruolo politico in questo paese e mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo stato invece magari avrebbe dovuto prodigarsi di più innanzitutto informarsi sulle cose che si dicono però ci penso io a rinfrescarlo un po la memoria fare il lavoro che non ha fatto in questi giorni quindi cara giornalista del grande fratello le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie durante questo periodo semplicemente per mero senso civico che non credo lei sappia bene cosa possa essere probabilmente abbiamo dato vita a una raccolta fondi che ha dato vita insieme allo sforzo di tantissime persone all'unica dico unica opera straordinaria di terapia intensiva che sia stata fatta sul territorio milanese durante la pandemia e lei mi vuole dire ha però l'ha fatto a marzo va bene durante tutta l'estate siccome il turismo necessitava di avere un riflettore puntato mia moglie è andata a far vedere le bellezze per quello che poteva cercato di fare il suo nel suo piccolo le bellezze italiane le è stato riconosciuto il leone d'oro per questo ma io mi chiedo lei invece che cosa ha fatto durante questa pandemia visto che si permette di inquisire i comportamenti di persone che non ricoprono un ruolo pubblico e guarda invece la parentesi che mi fa volare l'attestato di stima sul kodakons e l'immagine sacra di mia moglie dal quale lei si vuole dissociare l'immagine sacra innanzitutto l'ha fatta un artista che si chiama francesco vezzoli che uno dei più importanti artisti viventi italiani che espone nelle gallerie di tutto il mondo quindi magari informiamoci prima di fare i saccenti di sto cazzo no e siccome lei è una giornalista che fa servizio pubblico quindi pagata con i soldi dello stato prima di domandarsi che cosa ha fatto chiara ferragni durante il lockdown si domandi che cosa ha fatto il kodakons durante il lockdown per cui lei pubblicamente su una tv pubblica ha fatto un attestato di stima se non lo sapesse perché informarsi dovrebbe essere il suo lavoro ma evidentemente non ha voglia di fare questo le ricordo io che cosa ha fatto il kodakons durante il lockdown ha istituito una raccolta fondi con la dicitura dona al kodakons per l'emergenza coronavirus quindi se una persona donava pensava che i soldi andassero all'emergenza sanitaria perché quel momento era la priorità e invece purtroppo i soldi finivano nelle tasche del kodakons e se non ci fossi stato io a farlo notare a tutti magari qualcuno qualche sprovveduto avrebbe anche dato dei denari a queste persone qui questo è il kodakons che lei tanto ama e a cui lei è tanto vicina complimenti alla rai complimenti a tutti più cara giornalista il grande fratello il kodakons ha cercato di bloccare la nostra raccolta fondi che ha dato vita a una terapia intensiva che ha salvato delle vite umane vite vere cioè di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando ma io dico ma è mai possibile vedere delle scene del genere nella tv di stato è mai possibile secondo me no visto che ha posto sulla tv di stato delle domande tramite interposta persona senza avere l'interlocutore davanti io spero che mandi sulla tv di stato le mie risposte perché sono esattamente entrato nel merito di ciò che ha chiesto lasciando intendere spiacevoli asserzioni quindi mi aspetto che le mandi in onda e che risponda nel merito un saluto e un abbraccio